C'è un episodio sul quale ci sarà un po' di discussione che è l'amonizzazione Questo è un episodio sul quale il VAR non interviene mai perché ci sono elementi e supporto sia del cartellino giallo che del cartellino rosso Che cosa fa propendere il VAR a non intervenire? Perché mancano un paio di elementi Manca la velocità di impatto perché erano, tutto sommato, non erano giocatori che avevano una grande velocità in quel momento Una volta che si è accorto di essere molto in ritardo sull'avversario ha tentato di ritrarre la gamba e non l'ha preso pieno Vediamo, detto ciò, il rosso non sarebbe stato sbagliare